Questo video è stato un po' travagliato, probabilmente il più travagliato di quelli che ho fatto fino adesso perché avevo già iniziato a montare tutto un mese fa, avevo iniziato da due giorni a lavorare al montaggio e ho avuto un problema con i file, quindi ho perso metà delle registrazioni Per fortuna da Frognus hanno avuto un po' di compassione perché oltretutto avevo già anche rimandato un inverter e mi hanno rimandato un inverter da me, cioè un inverter da esposizione Per fortuna la parte di testa di inverter acceso sono riuscito a salvarla con l'inverter originale, quindi con un inverter funzionante Alcune parti del video purtroppo ho dovuto replicarle usando questo dummy Se volete potete anche fare un piccolo giochino e trovare le differenze tra l'uno e l'altro all'interno del video Vediamo se qualcuno capisce esattamente quali parti sono state riregistrate Partiamo col contest natalizio 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 Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net Oggi come avrete capito partiamo del nostro ragazzone Fronius Simo 8.0 Come avete visto nell'intro partiamo dall'inverter smontato giusto per farvi vedere quanto facile è aprire questo inverter e arrivare all'interfaccia contatti cambiamo visuale e vi faccio vedere cosa c'è effettivamente nella morsettiera Allora accendiamo le luci sul Fronius e partiamo dalla parte frontale togliendo la calotta di protezione che vedete lì e l'altra protezione che c'era sotto per proteggere la morsettiera ci troviamo davanti questo blocco di dissipazione gigante con l'iconica ventolona Fronius Gen24 che permette il raffreddamento di tutto l'inverter infatti vedete che da questo grosso blocco centrale comunque non c'è uno stacco termico insomma tutto il blocco di dissipazione continua anche sotto nella parte sotto alla morsettiera quindi è un sistema di dissipazione molto ben studiato e dalle dimensioni importanti questo sistema di dissipazione tra l'altro leggevo nella brochure ha vinto il premio Red Dot Award relativo appunto al sistema di dissipazione dedicato a quei prodotti che riescono a mantenere una temperatura più o meno costante su tutto il corpo macchina appunto i Red Dot sono dei punti rossi cioè dei punti in cui la temperatura di un componente è particolarmente elevata rispetto a tutto il resto del corpo macchina e ovviamente il Red Dot Award è per tutte quelle macchine che riescono a non far verificare questo tipo di fenomeno comunque andiamo avanti a sinistra della ventolona c'è il nostro switch per accendere e spegnere l'inverter duro come la morte passiamolo giù e sotto c'è tutta la parte di morsettiera la morsettiera a sinistra contiene i morsetti per la corrente continua questi sono tutti i morsetti rapidi quindi sono veramente facilissimi da utilizzare basta tirarli su infilare i cavi e farli scattare partendo da sinistra troviamo i morsetti più per l'MPPT1 un altro ingresso per l'MPPT1 l'MPPT2 e l'ingresso più della batteria a destra stessa cosa speculare quindi l'ingresso meno della batteria come vedete ha una scritta arancione su fondo nero mentre gli altri hanno una scritta nera su fondo arancione sicuramente questo aiuta nell'identificare a colpo d'occhio anche l'ingresso batteria poi c'è il meno dell'MPPT2 e i due meno dell'MPPT1 più a destra troviamo la parte dell'interfacciamento dati e vedete che c'è una sfilarata di morsetti diversi allora vi faccio vedere rapidamente questo dove c'è scritto WSD è il Wired Shutdown Switch è praticamente il segnale di spegnimento dell'inverter quando c'è un inverter slave si collega al master attraverso questo Wired Shutdown Switch e permette di verificare che una volta che si spegne l'inverter master si speggano anche tutti gli inverter slave dopo l'ingresso WSD troviamo l'ingresso Modbus gli ingressi Digital Input e Output e due ingressi LAN che servono per due motivazioni diverse uno è un ingresso LAN per la connessione a internet mentre la LAN 2 è per l'interconnessione tra inverter quindi se provate a connettere a internet l'inverter attraverso la LAN 2 non funzionerà se guardiamo sopra questa parte di morsettiera vediamo che ci sono degli switch vedete che c'è lo switch del WSD per decidere se è master o slave l'inverter gli switch del Modbus e più a destra ci sono i contatti per il sensore tattile se guardate un po' più giù invece vedete che c'è anche un ingresso USB da quel che ho capito non si può usare per l'aggiornamento firmware quindi probabilmente serve solo per scaricare i log o per collegarsi all'inverter per altri motivi e invece qua in fondo c'è lo sportellino per l'accesso alla scheda adesso Roberto mi sgriderà per aver aperto questo però insomma qui vedete che si riesce ad accedere direttamente alla scheda probabilmente per raggiungere altre funzioni oppure semplicemente per motivi di manutenzione per riuscire a sostituirla più velocemente ultima cosa relativa all'interfacciamento dati vedete l'antenna wifi per il collegamento wireless ci spostiamo ancora sulla destra e troviamo la parte relativa alla corrente alternata ai morsetti dell'alternata quindi vedete qui tutto a destra ci sono i morsetti per l'ingresso trifase quindi ovviamente l'ingresso che arriva da quello che sarà il nostro contatore di produzione fase 1, fase 2, fase 3, neutro e terra cosa interessante qui sotto c'è già una barretta di terra per eventuali collegamenti equipotenziali aggiuntivi se per esempio i cornici dei pannelli che stiamo per installare vanno messi a terra abbiamo già la possibilità di portare direttamente il cavo di terra a questa barretta di terra per fare il collegamento equipotenziale ultimo ma non ultimo ultima cosa molto interessante però del lato alternata alternata è questa che è l'uscita pv point dell'uscita pv point ne avevamo già parlato nel video dedicato alla funzione di backup degli inverter ibridi ricordiamo velocemente che cos'è è praticamente una linea dedicata a un carico privilegiato che in caso di blackout in caso di mancanza della tensione di rete può andare a essere alimentata in alternata esclusivamente dall'inverter quindi solo se le batterie e o il fotovoltaico stanno producendo e nel caso di frognus è limitata a un'utenza monofase fino a 3 kilowatt in pratica è una linea completamente staccata dalla rete perché non si può assolutamente immettere energia in rete quando viene tolta dal gestore di rete ovviamente però che ci aiuta quando va via la luce ad avere per esempio il computer ancora acceso che prende energia esclusivamente dal fotovoltaico dalle batterie è un aiuto ovviamente in caso di mancanza di tensione però naturalmente non può sostenere per molto tempo il carico o carichi molto alti tutto dipende naturalmente dalla capacità delle vostre batterie dalla potenza del vostro fotovoltaico e dalle loro condizioni nel momento in cui va via tensione andiamo avanti adesso provo ad accenderlo a richiuderlo e a collegarlo al computer per farvi vedere la parte software va bene richiudiamo tutto e accendiamo il computer ah una cosa molto interessante di questo inverter che ci fa capire un po' l'ingegnerizzazione da parte di Fronius quanto sono attenti alla praticità anche dei loro inverter sono queste viti che non sono da avvitare ma sono da semplicemente da girare cioè sono da avvitare ma pochissimo sono delle viti a scatto cioè sentite ecco cioè mezzo giro sentite il clac e la vita si è già fissata stessa cosa ovviamente per svitarla però questo per farvi capire quanto sta attenta a Fronius anche all'esigenza dei suoi installatori andiamo a chiudere anche questo ok luce blu lampeggiante adesso dovrebbe esserci Fronius 3 2 1 3 6 6 1 7 diciamo connetti va a password 1 2 3 4 5 6 7 8 si ok adesso si sta connettendo e vediamo se funziona davvero va bene che cambia così ti direte ok sono collegato ok poi mettiamo nel browser l'indirizzo IP e siamo arrivati ok questa è la schermata iniziale dell'inverter ok fin qui tutto abbastanza semplice siamo connessi all'inverter e possiamo andare a gestire tutte le impostazioni vediamo allora nella schermata iniziale c'è lo stato dell'inverter quello che sarebbe il display che purtroppo come vi dicevo anche nell'unboxing manca in questo inverter però ci colleghiamo con il computer ci colleghiamo al browser apriamo questa schermata e sappiamo cosa sta facendo l'inverter nelle funzioni avanzate ci sono c'è la tensione CC la tensione delle batterie strano ok andiamo a vedere un po' l'interfaccia giusto per vedere il stato dell'apparecchio inverter fermato qua c'è la potenza corrente adesso se si rim***se un attimo il fronio su 1,2,3 connetti arrivo piccolo neo la velocità di connessione dell'inverter un po' lentina vediamo velocemente questa interfaccia all'interfaccia generale allora partiamo qui a sinistra molto semplice potenza corrente dell'impianto e grado di utilizzazione produzione di energia abbiamo la potenza corrente il totale l'energia prodotta totale da quando è partito l'impianto lo stato dell'apparecchio inverter fermato poi ci saranno anche le sezioni dedicate alla batteria vediamo qua se c'è un'altra configurazione del dispositivo gestione energetica sistema comunicazione requisiti di sicurezza di rete vediamo se mi fa vedere qualcosa no ah quindi posso sbloccarlo fermi tutti ok vediamo credo di essere riuscito a entrare a configurazione del dispositivo inverter forza lo stand by stato attivo va bene grazie questo era gestione energetica gestione carico qui si può impostare la priorità cioè in questa sezione possiamo andare a dare delle priorità all'inverter nel senso che vada o a caricare la batteria o a gestire il carico a seconda di che potenza sta producendo l'impianto fotovoltaico e di quello di cui abbiamo bisogno ottimizzazione dell'autoconsumo automatico manuale io direi automatico lasciamo su automatico torniamo indietro sistema allora sistema andiamo a vedere generale aggiornamento l'aggiornamento si fa tramite ota insomma l'aggiornamento è da internet non c'è la chiavetta da inserire eccetera basta connettere l'inverter a internet se ci sono degli aggiornamenti vengono scaricati poi abbiamo alla messa in funzione guidata ci arriveremo registro eventi qua c'è tutto il log degli eventi dell'inverter informazioni versioni firmware tutte le revisioni software revisioni hardware rete test test licenza disponibile qua tra l'altro c'è l'info sul supporto manutenzione a distanza questa è una cosa carina l'accesso alla manutenzione a distanza consente il supporto tecnico di accedere all'inverter solo tramite un collegamento sicuro quindi si può nel caso di problemi software all'inverter si può contattare l'assistenza e l'assistenza può tentare una correzione dell'errore da remoto cioè tramite internet con una connessione sicura probabilmente una VPN qualcosa del genere andiamo a vedere messa in funzione guidata vediamo qua abbiamo rete e possiamo collegarci la rete LAN vediamo condizioni d'uso accetta impostazioni di rete ho accettato cosa sta succedendo? sei ancora sveglio? si sono ancora connesso a quello perché mi cambia la rete? no devo farvi fare l'accesso va bene ok dai su fammi vedere ho accettato ho impostazioni di rete vediamo abbiamo LAN VLAN access point quindi volendo l'inverter può fare anche da ripetitore wifi vediamo allora cerchiamo di collegarlo alla mia rete di casa non guardate la password connetti ho connesso perfetto rete disponibile bene siamo collegati solar web andiamo avanti la connessione di rete deve essere configurata è notissima si lo so si sono internet quindi impostata la rete wireless posso collegarmi alla mia rete wireless normale quindi quella con accesso a internet e a questo punto posso collegandomi sempre sul browser nell'indirizzo IP dell'inverter andare a vedere se riesco a farlo andare fate la procedura guidata connettete l'inverter alla vostra rete di casa poi vi riconnettete al vostro wifi quindi vi riconnettete a internet cliccate su sì quindi porta a solar web redirect app wizard eccetera 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 no funziona cioè io l'ho connesso adesso vorrei che fossi collegato anche a internet forse adesso devo rivedere l'indirizzo IP andiamo a vedere l'indirizzo IP perché non c'è qualcosa che non torna una volta Fronius era più facile davvero con il display era tutto molto più semplice ve l'assicuro tornate a vedere la recensione del Fronius primo e secondo me l'aver perso il display ha dato un punto in meno a questo inverter ah ecco vedete secondo me adesso devo andare se mi ricolleva la mia rete internet 192 168 1.30 quindi io adesso vado sulla mia rete wifi vado 192 168 punto 1.30 ovviamente voi dovete andare a vedere il vostro in dirizzo IP perché quello di prima era quello di fabbrica del router wireless dell'inverter dopo averlo connesso alla vostra rete wifi dovete andare a vedere l'indirizzo IP che vi ha assegnato il vostro modem per potervi riconnettere sulla stessa pagina ce l'ho fatta sono connesso internet e sono tornato sulla pagina dell'inverter vediamo se riesco a fare solo al web stavolta ok video infinito oh ce l'ho fatta sono entrato va bene si condizioni di uso cronus grazie accetto le ho lette tutte ovviamente avvia messa in funzione va bene queste sono le cosa è questo il vcode finito dai non lo so cos'è il vcode intanto abbiamo scoperto abbiamo una conferma che si può accedere anche da smartphone allora il vcode allora quindi in teoria ce l'ho sopra vcode vcode 43 esatto ce l'ho fatta oh bene finalmente bene dopo appena 27 minuti di configurazione ce l'ho fatta eccoci qua finalmente siamo nella panoramica del nostro impianto quindi io d'ora in poi diciamo che se io vado sull'indirizzo IP del mio inverter posso vedere direttamente quello che sta facendo direttamente dall'inverter però se non mi ricordo l'indirizzo IP se il modem ha indirizzi IP casuali quindi stabilisce il modem ogni volta che si riavvia non sapete esattamente che indirizzo IP ha il vostro inverter per risolvere questo basta andare su solarweb.com accedete con la vostra registrazione come avete visto fare a me adesso e vi trovate esattamente la stessa schermata anzi con qualche dato in più quindi c'è alimentazione di corrente questo in teoria è una foto del vostro impianto il bilancio energetico di oggi qua potete andare a impostare le condizioni economiche del vostro impianto per avere a colpo d'occhio il guadagno andiamo a vedere le varie pagine qua c'è una panoramica alimentazione di corrente il bilancio energetico il meteo perché ovviamente il fotovoltaico è ampiamente influenzato dal meteo poi ci sono i valori i valori correnti la cronologia una simulazione che non so cosa sia ah ok qua avete la possibilità di capire l'autoconsumo però newsonpilot ragazzi è un regolatore di resistenza aggiuntiva per il riscaldamento per la pompa di calore insomma è un modo per usare l'energia del fotovoltaico per implementare l'impianto di riscaldamento oppure vabbè poi qua c'è anche il discorso dell'accumulo che ti dà poi scegliere quali batterie hai inserito in pratica voi impostate il vostro impianto avete il vostro impianto funzionante sul solar web avete la possibilità anche di capire se vi converrebbe avere il fronioso on pilot per integrare il riscaldamento o un sistema di accumulo per immagazzinare l'energia che altrimenti metteresti in rete bilancio energetico produzione consumo relazioni ma dai qua ti dà anche la possibilità di creare una nuova relazione in pratica c'è un template un modello base che può essere generato automaticamente con i dati ovviamente dello storico del monitoraggio dell'autoconsumo eccetera però molto carino il software di gestione dell'inverter diventa sempre più ricco di contenuti quindi come vi dicevo anche nell'unboxing l'inverter in sé come blocco è un po' meno user friendly senza il display ma una volta che si è collegati al sito al solar web una volta che si è riusciti a metterlo in rete ci sono tante tante funzionalità in più se non mi credete andate a vedere il vecchio video della recensione del fronius primo e capirete che hanno aggiunto veramente tante funzionalità messaggi di servizio vabbè qua ci sono tutte le novità messaggi di sistema errori babababa impostazioni vediamo cosa c'è questo forse è un po' più interessante valuta fattore di co2 offset che ho attora offset guadagno data installazione immagine dove potete mettere la proposta impianto i contatti componenti questo vi fa vedere cosa c'è dentro all'inverter diritti questa è per la gestione dell'inverter se può accedervi qualcun altro tra voi qua potete aggiungere le tariffe di acquisto dalla rete per avere appunto il guadagno che abbiamo visto prima messaggi di servizio vediamo se c'è altro modifica proprietario elimina va bene eccoci abbiamo visto l'esterno nell'unboxing abbiamo visto l'interno il software ora diamo un po' di numeri dove ho messo la scritta ho sottopicciato tutta che schifo vabbè fate finta che io non le abbia sottopicciate allora diciamo innanzitutto il nome completo Frognus Simo 8.0 Plus serie Gen24 è un inverter uscito nel 2020 a fine 2020 ibrido e con la funzione in questo caso per questo modello il Plus con la funzione backup il design è il classico della Gen24 un quadratone con la ventolona al centro diciamo un design abbastanza pulito per quanto sia un inverter trifase non è eccessivamente grande lo sappiamo con lo sviluppo tecnologico di questi dispositivi le dimensioni per fortuna sono sempre più piccole le dimensioni effettive dal 3 kilowatt al 10 sono sempre queste la scatola è sempre quella e le misure sono 530 mm di altezza per 474 di larghezza per 165 mm di profondità il peso è all'incirca di 15,6 kg la rumorosità per il momento non l'ho sentita perché ovviamente non essendo in esercizio praticamente non essendo in produzione non si è scaldato anche se è acceso da un'ora la ventola non è partita però vi posso dire che la ventola ha un'emissione sonora di circa 36 dB quindi comunque un'emissione molto bassa il display non c'è c'è la barretta con i led come abbiamo visto nell'unboxing dati elettrici allora questo inverter ha un'uscita nominale in alternata di 8 kilowatt come campo fotovoltaico supporta un campo fino al 150% di sovradimensionamento quindi fino a 12 kilowatt ovviamente rispettando i parametri massimi di tensione e corrente per ogni MPPT ha 2 MPPT quindi 2 inseguitori di punto di massimo rendimento e ha una tecnologia particolare di gestione del punto di massimo rendimento che permette di limitare le perdite legate all'ombreggiamento parziale questo gli permette di raggiungere un grado di efficienza europeo del 97,1% che per un inverter trifase è già un buon rendimento ma la cosa impressionante di questo inverter è il range di tensione MPPT che va da 80 watt a 800 quindi un range molto ampio che ci permette anche di avere stringhe molto diverse tra loro tra i due MPPT e finiamo col dire che l'inverter è conforme a una nativa C021 ma non a quella C016 quindi è adatto a tutte le connessioni in bassa tensione ma non a quelle in media le funzioni aggiuntive l'abbiamo già detto quando abbiamo guardato la morsettiera questo inverter può gestire un blocco batterie nella scheda tecnica viene riportata la compatibilità con le batterie BYD HV altra funzione aggiuntiva il backup quindi la linea dedicata monofase fino a 3 kilowatt per l'alimentazione dei carichi privilegiati in caso di mancanza rete ultimo dato da considerare perché comunque anche l'inverter in stand by consuma il consumo notturno è inferiore ai 10 watt che dire di questo inverter è un inverter solido perché Fronius è sinonimo di solidità e di grande cura soprattutto nella realizzazione e nella durata e nell'affidabilità dei suoi prodotti è un inverter molto purato di facile installazione infatti mi sono sconato di farvi vedere infatti per l'installazione basta fissare questa barra con i tasselli e poi agganciare l'inverter a queste staffe quindi anche per quanto riguarda l'installazione grande cura ai dettagli e grande facilità di montaggio l'unica pecca un po' è la mancanza del display ma ne abbiamo già ampiamente parlato e un po' brigosa abbiamo visto la prima connessione però ovviamente non è una cosa che avrete da fare voi la prima installazione e la configurazione sarà fatta da un tecnico specializzato e accreditato Fronius perché ormai anche le altre aziende vanno sulla specializzazione dei tecnici sui loro prodotti quindi ci sono corsi eccetera se andate sul sito di Fronius trovate tutte le informazioni su come si diventa installatori certificati Fronius Fronius non punta come altri sull'utilizzo di ottimizzatori e se andate nella pagina del sito dedicata a questo inverter trovate anche una brochure che spiega i motivi di questa scelta perché appunto con la nuova funzione di dynamic peak manager Fronius dichiara un aumento della produzione del 7% anche in condizioni di ombreggiamento rispetto a inverter classici quindi questo inverter non è compatibile con ottimizzatori Fronius non fa ottimizzatori di rendimento per il singolo modulo che dire Fronius conferma la solita maniacale l'attenzione austriaca alla qualità alla robustezza e ai dettagli potrebbe essere un po' più facile un po' più veloce almeno la connessione all'inverter almeno per l'installatore secondo me potrebbe essere almeno per la prima installazione un po' più veloce però giustamente Fronius forma i tecnici con cui collabora per garantire la qualità anche delle installazioni quindi un prodotto di qualità affidabile robusto studiato nei minimi dettagli e chi più ne ha più ne metta è un inverter per chi vuole la tranquillità che il suo investimento duri nel tempo e soprattutto abbia pochi problemi in Fronius ci credono talmente tanto nella messa a punto dei loro inverter che danno una garanzia che con le varie estensioni può arrivare fino a 20 anni quindi potete comprare l'inverter e potete avere la garanzia per 20 anni che l'inverter sia in ordine tutto questo tutta questa qualità solidità garanzia bla 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 si paga perché ovviamente tanto lavoro va oggettivamente ad aumentare un po' il costo il costo di listino del Fronius primo 8.0 è di 2.919 euro che tutto sommato è comunque intorno alla media del prezzo dell'inverter da 8 kg a trifase con accumulo con funzione di backup bene anche questa recensione finisce qui grazie a Fronius per avermi fornito un altro inverter da recensire fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate un like se il video vi è piaciuto e come al solito vi do appuntamento al prossimo video il video di oggi finisce qui fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita di nuovi video vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi in particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà oltre a vantaggi social su youtube anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sun Report per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni consulenze domande generiche eccetera il modulo per l'iscrizione a archivi installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario che sono già attivi sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti i canali social facebook linkedin instagram il mio sito il link a patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico ciao ciao Grazie a tutti.